Siamo arrivati con Bruni, Frecchia, Longy, Giosta, Misterino in camera, e ora andiamo a New Year, for old ladies and old boys in the house, in WS, in questa serata parte così, in questo modo troppo a questo sì, ma neri Giosta, vengo da Torino, hanno cresciuto in Sardegna e c'ho vissuto qui da Torino, del Zell su Zell, in questo modo mi presento e regalmente vinto su questo conflitto, insieme al mio fratello che ha da Torino, che zero stress, ha fatto delle stracce, insieme a Bruni, più breve, al Cinturino, che spara a casa il fatto e non si ferma da Torino, in ora insieme al Dato non so quanto è lento, su, col Zell su pazza, vieni non sei, u Nice, andar, ripessele, si amate, me c'ho un gruppo Fè, un pacco, me la chisele,한�ici roende, nei capelli, scegli pe' come ti metti, i miei 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 parte se la passando a pagata pagata sei, ma quella cosa sei la sua, ma sei c'ho libera su me, cobraculo così ai, ma tutti nemmeno santi che puoi, vantú so questo amore che fa raguare su Mio Cintrani e Stabilia, sono tutti e scegli voi, Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. Sì.